3.600 lumini disseminati dai volontari lungo le strade del borgo, a cui si aggiungono quelli che i cannobiesi non fanno mai mancare alle finestre e all'uscio delle porte nei due giorni di gennaio che segnano la festa religiosa più sentita. In una serata benedetta da una temperatura abbastanza mite, Cannobio per il 502esimo anno ha celebrato il miracolo della Sacra Costa. Straordinaria la partecipazione. Migliaia di persone, con tanti... Abbonati a soli 9,90 euro all'anno. Autosalone tedeschi, concessionari a Suzuki per il VCO, a piedi mulera.